La maggior parte delle varietà si è diffusa in Oriente, a partire dalla zona d'origine, in particolare in Giappone e Cina, fino ad arrivare in Grecia e nell'antico Egitto. In Italia la loro apparizione risale al II secolo a.C., quando Prigno il Vecchio le descrisse le caratteristiche e Varrone le tecniche di innesto. Nel mondo esistono 150 varietà di ciliegie che derivano da due specie, il ciliegio selvatico dolce e il ciliegio acido, ed in Italia la patria della ciliegia è l'Emilia Romagna. E adesso andiamo a degustare! La ciliegia di Vignola IGP si caratterizza alla vista per il picciolo sottile e per la particolare colorazione, che va dal rosso fuoco al rosso scuro. All'assaggio appare compatta, dalla polpa succosa e croccante, aromatica e gradevolmente dolce. A noi piace consigliarvene l'assaggio come ingrediente principale di uno strudere, o come protagonista di una terrina al cocco.